Mi chiamo Renato Arrigo, sono un architetto invitato da Luigi Prestinenza Puglisi nell'ambito di una relazione sull'interior. Ognuno di noi racconta la propria storia. La mia incomincia con Cerna una volta, come tutte le storie. Era una storia di una casa di 25 metri quadrati per quattro persone realizzata. Era una storia di una piccola vetrina di un negozio che diventava fin da subito distintiva del suo essere abbigliamento per bambini, per le sue caratteristiche. La storia che si va a raccontare, che ieri ho avuto modo di raccontare, sono nuovi progetti in corso. Una casa senza pareti né tetto, una sorta di sfida che noi architetti andiamo a raccogliere. Un'altra storia è invece una casa ricavata da una cisterna municipale d'acqua, sepolta dalla terra, che si va a trasformare in una edilizia residenziale. Un'altra ultima storia è quella del CNR, per il quale si sta progettando una piccola cellula domotica autosostenibile. Diceva mia figlia una volta leggendo e parafrasando un libro, dice, raccontami una storia. E l'altra persona dice, che tipo di storia? Una storia a lieto fine. No, non esistono al mondo storie a lieto fine. Ma forse più facilmente troverai una storia senza fine che non finisce mai. E questo è il nostro progetto, questo è il nostro percorso di architetti, dove le storie non finiscono mai, ma si raccolgono sempre e si raccolgono sempre con nuovi fini, nuovi entusiasmi.